Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui come promesso a portarvi la squadra con Team of the Season Sanchez e Walcott attaccante in forma. Una cosa veramente devastante ragazzi, questa è una squadra illegale perché è mostruosa, è inarrestabile e fate una media di 4, minimo 4 gol a partita se non vi quitta l'avversario. Perché questa squadra fa quittare gli avversari in un modo incredibile. Partiamo subito, quindi da lasciare un bel like perché questa squadra ragazzi lo merita. Andiamo subito a parlare del modulo 4-3-3 classico con 3cc, mi sono trovato da Dio con questo modulo e quindi ve lo consiglio anche a voi. Andiamo con la squadra, in porta troviamo Claudio Bravo, ottimo portiere, uno dei miei preferiti attualmente perché mi para praticamente qualsiasi cosa, ha dei riflessi allucinanti, fa delle parate veramente mostruose e ve lo consiglio tutta la vita. Poi in difesa ho, allora come terzino destro ho usato Fanny ma potete usare qualsiasi terzino destro francese della Ligue 1 che trovate oppure del tipo Saint-Etienne. Comunque Fanny è buono, molto buono, c'è anche una sua versione IF da difensore centrale però non penso si trovi sul mercato o comunque costa abbastanza, penso. Però devo dire che è un buon terzino, lui e l'altro terzino sinistro sono gli unici silver della squadra però sono molto buoni. Come difensore centrale appunto abbiamo Peren del Saint-Etienne per cui dicevo un terzino destro del Saint-Etienne linkava con lui. L'ho utilizzato perché, dopo vi spiego perché, comunque discreta velocità, 71, forte in difesa, buon fisico, non è altissimo, mi aspettavo qualcosa di più però mi sembra molto solido come difensore che costa comunque poco. Mentre il compagno di reparto ha utilizzato, ecco qui, Mathieu perché penso che sia fortissimo, anzi è fortissimo. L'unica pecca di questo giocatore è che ha un workhead attacco alto però io vi garantisco che resta sempre in difesa, di testa le prende tutte perché è molto alto, ha un fisico molto buono, buono in difesa e anche un'ottima velocità per essere comunque un difensore così alto. E quindi penso che sia un ottimissimo difensore centrale. Mentre per concludere la difesa, terzino-sinistra, ho utilizzato Olebas per il link, ovviamente, che vedremo più tardi. Olebas molto buono, veloce, anche un buon tiro, ha rischiato di fare gol in parecchie situazioni, un discreto passaggio, comunque buono in difesa con Sentinella, migliora ulteriormente. Andiamo con il centrocampo, partiamo subito dal giocatore centrale, cioè Pogba, per questo ho messo i due centrali per fare il link, ovviamente, francesi. Pogba è un mostro, davvero è fortissimo, fa dei tiri dalla distanza che sono micidiali, in tre partite mi ha fatto tre gole, un assist, che è una media pazzesca per un centrocampista centrale, quindi davvero devastante. Potete usarlo anche in altre posizioni di Pogba perché può ricoprire qualsiasi ruolo, però vabbè, qui bisogna per forza utilizzarlo da centrocampista centrale. Compagno di reparto a destra abbiamo Vidal, che è un altro giocatore che non sono queste le sue statistiche, però l'ho comprato tipo un'ora fa. Mi ha fatto in tre partite almeno due gol, forse anche tre, anche lui, perché due gol me li ha fatti sicuro perché in una partita mi ha fatto doppietta, più tanti assist, è un giocatore che fa anche tanti assist. E attacca e difende in continuazione, è davvero un guerriero, proprio come il suo soprannome, ed è davvero fortissimo e mi sorprende che costi solo 1900 crediti. Mentre per completare il centrocampo, centrocampo Serie A con Nainggolan, anche esso molto buono, mi ha fatto un solo gol, ma ha tanta costanza, tanta sostanza durante le partite, recupera un sacco di palloni, attacca, ha un buon tiro e tutto. Molto completo come giocatore, garantisco anche per lui. Ma andiamo con l'attacco perché non possiamo non parlare dell'attacco. Andiamo con il giocatore meno forte, cioè Hazar, mi è stato detto di utilizzare magari Bolasie per fare il trio d'attacco con due tots e un if, però non volevo spendere crediti perché questo account è quello del Chelsea, quindi non vorrei spendere crediti qui. Quindi ho utilizzato Hazar, che è un giocatore che già ho e che comunque è fortissimo perché è velocissimo, un buon tiro, forte nei passaggi, un dribbling allucinante, 4 stelle abilità. Raga, è fortissimo, mi ha fatto, non so, in tre partite, almeno tre gol me li ha fatti, penso, e comunque mi ha fatto anche tanti assist. E devo dire che è il giocatore più scarso dei tre che abbiamo. Andiamo con l'ala destra, cioè Sanchez, parliamo di Sanchez che come vedete ha delle statistiche incredibili, cioè 96 di tiro, 98 di dribbling, vabbè 95 di velocità si commenta da solo, passaggio altissimo, fisico altissimo per uno alto 1,71, non ci sono parole per descrivere questo giocatore. È fortissimo, quando corre non lo prende mai nessuno e poi quando tira, cazzo tira delle botte clamorose. Quattro gol in tre partite più due assist, i dati potrebbero essere nettamente migliori se gli avversari non quittassero dopo 30 minuti, dopo che vai sul 4-0 e li distruggi praticamente, quindi potrebbero essere anche di più i dati. Mentre l'attaccante, come sapete, è Theo Walcott, attaccante if anche esso un giocatore meraviglioso. Quattro gol in tre partite più due assist, stessa media tra l'altro di Sanchez, però ripeto potrebbero essere anche migliori queste statistiche. Basti vedere che a 97 di velocità è già l'avversario quitta, poi comunque vediamo che è anche un ottimo tiro, un ottimo passaggio per un attaccante e tanta roba come unica punta, 84 di dribbling, work rate perfetto per un attaccante. Ragazzi, questo giocatore è veramente fortissimo, lo trovate sempre in zona, diciamo, prima del fuorigioco, in modo da scattare sempre, andare da solo davanti al portiere e fare sempre un sacco di gol. Ragazzi, io vi consiglio questa squadra, fatela anche se, dico, se ci avete i crediti fatela perché ne vale veramente la pena, vincete praticamente tutte le partite garantito, in una partita addirittura ho fatto 8 gol con questa squadra, quindi per farvi capire un po' quanto è forte il suo potenziale offensivo. Come sempre, raga, vi invito a lasciare un bel like, 300 mi piace uscirà un nuovo video e scrivetemi sempre nei commenti qualche altra squadra che volete, magari, non so, ditemi qualche giocatore toz da utilizzare in qualche squadra, io per esempio vorrei provare The Bruin Team of the Season, fatemi sapere cosa ne pensate, così lo proverò e farò una squadra. Come sempre iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link come sempre in descrizione, adesso vi lascio il clip, noi ci vediamo al prossimo video, bella raga! Ciao! 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 Grazie a tutti.